Sulla vita di Sant'Ernesto, padrono della Germania, si sa veramente poco. Ernesto era nato nella Germania occidentale, forse intorno al 1105. Chiamato al governo di un grande monastero benedettino, al centro di alcune dispute territoriali, partì poi per l'Oriente con i crociati, assieme ad altri sacerdoti e monaci, non con lo scudo e la corazza per combattere, ma con il saio, per pregare ed assistere i soldati. La crociata non ebbe successo a causa degli antagonismi e delle gelosie tra i due sovrani a capo della spedizione. Le due armate dovettero agire separatamente e quella comandata da Corrado III, sorpresa dai turchi a Dorilea, subì nel 1147 una terribile disfatta. Nella battaglia e nella ritirata che seguirono, tra coloro che andarono perduti, morti o prigionieri, andò perduta la quasi totalità dell'esercito crociato, tra cui anche Ernesto.